Grazie 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 beni culturali e il turismo Dorina Bianchi, per sottolineare l'importanza che questo riconoscimento ormai è arrivato il 30 giugno scorso ha avuto per tutti i territori coinvolti. Ricordiamo l'importanza del distretto perché per la prima volta sono stati messi insieme tre territori diversi, tre regioni diverse, tutto questo grazie alle reti di impresa, perché questo è un meccanismo che parte dal basso, che ci hanno attivato e ci hanno dato la possibilità di distribuire il marchio degli Etruschi all'interno dei nostri territori come offerta turistica. Questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza ritengo, perché il lavoro va pianificato e sviluppato. Questa è una legge relativamente nuova, perché prima era destinata solo ed esclusivamente al sud, alle zone depresse, poi con la crisi evidentemente anche il centro nord è stato inserito. Noi abbiamo avuto probabilmente la forza di metterci insieme, insieme a 18 comuni della provincia di Roma, tutta la provincia di Viterbo, i 18 comuni dell'Umbria e i quasi 120-130 comuni della Toscana. Siamo rimasti insieme, siamo riusciti a fare una sinergia e oggi siamo qui ad inaugurare la prima sede operativa. Oggi abbiamo prodotto più che altro delibere, pezzi di carta, sottosegretario, che ci hanno veramente creato problemi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una corsa contro il tempo. Oggi in tutto il distretto è a disposizione una sede operativa, a disposizione della rete di imprese, degli imprenditori, di tutti quelli che tengono al nostro territorio e che vogliono sfruttare questa opportunità. Ora io passo la parola al sindaco di Viterbo, ovviamente, per un saluto. Sì, grazie. No, no, senza applausi. Dobbiamo l'applauso fare al sottosegretario che è venuto a qui e che ci onora di questa presenza e anche di un riconoscimento che indubbiamente insomma apprezziamo e ci fa onore. E io voglio sottolineare, sottosegretario, che il successo di questa iniziativa è dovuto al fatto che ognuno di noi ha superato un po' il campanilismo civico, no? Allora ognuno ha il suo campanile, ha la sua risorsa locale più bella dell'altro. Io credo che se noi qui abbiamo il sindaco di Viterbo, rappresentante del comune di Chiusi, ma insomma altri comuni, ringrazio anche il comune di Tocchiano, visto il sindaco poco fa, è perché abbiamo dato la stessa dignità a tutti i campanili. Io credo che è un po' un esempio che il nostro paese, quando si parla di fare sistema, forse è più semplice di quello che uno pensa. Fare sistema significa mettersi tutti sullo stesso livello, sapendo che il bene comune, l'interesse comune, l'economia comune, parte ovviamente dal contributo che ognuno di noi mette insieme, costituire una sorta di paniere unico dove si offre il meglio la diversità che ha ogni territorio e che si aggiunge agli altri eccellenze degli altri territori. Io credo che sia questo un significato positivo del distritto e poi magari durante anche il comune di Tocchiano, io credo che è un'opportunità proprio per far crescere questa creatività, questa atmosfera di creatività che in qualche modo mette in movimento, avere qui più rappresentanti di soggetti istituzionali, più rappresentanti di imprese di un territorio vasto, insomma abbiamo visto un po' quante campi ho questo territorio interregionale, diciamo di tanti comuni che in qualche modo rappresentano una unicità. Ecco, proprio il tema dell'unicità secondo me è l'elemento che caratterizza il distritto, in questo caso partiamo dagli Etruschi perché è unico insomma avere un territorio con gli Etruschi e andiamo avanti perché dagli Etruschi nascono delle iniziative che in qualche modo portano l'economia, portano un valore aggiunto al nostro benessere e ovviamente alla nostra cultura e alla nostra comunità. Grazie. Grazie. Io vi ringrazio moltissimo perché oggi si realizza una sfida che un po' come Ministero dei Beni Culturali e del Turismo abbiamo iniziato. Voi sapete che il turismo non faceva parte dei beni culturali ma era a parte nella Presidenza. Il Ministro Franceschini l'ha fortemente voluto all'interno del Ministero dei Beni Culturali perché siamo convinti che i nostri beni culturali e la nostra cultura uniti con il turismo possono finalmente fare sistema e dare una risorsa reale, concreta che interessa anche e deve interessare soprattutto i giovani che sono quelli che di più lavorano nel turismo, possono dare finalmente uno sviluppo non soltanto culturale e sociale di un territorio ma anche economico. Voi siete una realtà che sta mettendo in pratica un po' quella che è stata la nostra sfida come Ministero. Quindi mi fa particolarmente piacere essere oggi qui con voi naturalmente a inaugurare questo posto che noi seguiremo anche perché siete stati virtuosi e in questo ringrazio tutti i sindaci che sono qui con me, ringrazio la sovraintendenza naturalmente che so che ha lavorato su questo progetto e il prefetto di Viterbo. Ringrazio i sindaci, dicevo perché mettersi insieme non è facilissimo nel nostro Paese e questo è un esempio virtuoso, siete il primo distretto che tra l'altro riesce a mettere insieme regioni differenti tra i vari progetti che sono stati presentati al Ministero soltanto due hanno avuto la capacità virtuosa di mettere insieme comuni di regioni diverse. Secondo me invece è questo quello che dobbiamo fare. Noi tra l'altro abbiamo un territorio così ricco, interessante di cultura, di storia, di enogastronomia che va valorizzato. Abbiamo legato un territorio grande città d'arte come Roma che sono piene di turisti e sinceramente dobbiamo iniziare a decongestionarle. Una delle nostre idee cardine è quella di delocalizzare i turisti e quindi creare dei percorsi che da Roma portino verso la periferia. Io come ho detto prima al sindaco credo che andare a vedere Roma ma poi vivere questi posti possa essere la motivazione per cui i nostri turisti alla fine possano voler tornare in Italia perché Roma ha delle cose meravigliose ma poi vivere l'italianità, vivere l'Italia secondo me è possibile soltanto in questi posti soltanto nel territorio limitro. Quindi io di questo vi ringrazio, noi come Ministero naturalmente vi seguiremo e seguiremo tutti i territori, questo è un territorio vastissimo, io vorrei soprattutto che i giornalisti mettessero in evidenza come sono stati bravi perché sono 300 comuni che si sono messi insieme, offriranno davvero un prodotto interessante per chiunque voglia visitare una regione così ampia, molto variegato ma che ha in comune poi un'esperienza che è quella etrusca e io, insomma siccome il significato del nome viato è mamma, io da questo punto di vista vorrei che ci fosse un affetto, ecco come se questo fosse un figlio, un piccolo bambino che noi vediamo nascere, oggi la nascita come diceva giustamente il vice sindaco, è un bambino che nasce e noi dobbiamo farlo crescere, quindi siamo tutti qua anche chi è dall'altra parte perché io vorrei ricordare che i cittadini tutti partecipano allo sviluppo del turismo e quindi all'ospitalità, insomma che tutti quanti si possa fare crescere questo bambino e farlo diventare un adulto che costruisce e lavora. Grazie. Possiamo regalare la magliettina di Ati al sottosegretario? So che in arrivo il funzionario della regione Lazio, la dottoressa Longo, verrà in rappresentanza del presidente Zingaretti che è stato convocato stamattina a Palazzo Chigi dal presidente Renzi per questioni ancora più importanti di questa, purtroppo il terremoto oggi è un mese dagli accadimenti, quindi nella prosecuzione adesso ci spostiamo per il convegno alle Terme Sardos e noi sapremo modo di avere un suo contributo. Adesso ci giungono voci che la dottoressa starebbe per arrivare, però non so quanto tempo manca perché siamo già abbastanza in ritardo. Nel frattempo approfittiamo per i toni, perfetto. No, perché vorrei dire, visto io mi ero fermata perché pensavo che dovessimo andare al convegno, però la cosa importante poi di questo distretto naturalmente, proprio riguardo anche purtroppo al terremoto, è che questo distretto potrà usufruire di quelle facilitazioni sia come distretto dal punto di vista burocratico, sia agevolazioni fiscali per le imprese che potrebbero anche da questo punto di vista iniziare una messa in sicurezza di tutto il territorio che naturalmente è rappresentato da numerosi borghi. Quindi il distretto ha una sua funzione, è stato pensato proprio per facilitare quello che è lo sviluppo turistico e quindi economico del territorio con delle cose concrete. Sì, c'è anche il discorso della burocrazia zero, quindi anche per lo snellimento di tutte le attività burocratiche delle imprese e dei soggetti che operano nel distretto. Quindi al di là delle finalità di crescita economica legate ovviamente a uno sviluppo turistico insomma integrato tra realtà e realtà, c'è anche un discorso di semplificazione e anche fiscale che può agevolare chi intende investire. Io prima ho fatto riferimento sottosegretario a questa sorta di atmosfera creativa, cioè quando ci sono contaminazioni positive fra territori, io veramente ringrazio i sindaci, tutti, tutti, veramente perché hanno dato una prova secondo me di grande maturità italiana. Lo dico perché ci tengo a sottolineare l'aspetto che questo è un modello del nostro Paese, cioè fare sistema è facile. Poi se si parte da sindaci, perché i sindaci lei sono meglio di me che sono quelli che stanno in mezzo a tutti i problemi del mondo e quindi questo è un riconoscimento che su un progetto, come posso dire, di elevatura che va al di là del contingente del sindaco, si sono adoperati e hanno veramente dato dimostrazione di grande responsabilità. E credo che questo può essere un esempio da seguire. L'abbiamo attivato il distretto, dobbiamo gestirlo con le finalità che si prefigge il distretto. Ora la scommessa va fatta con le imprese, le imprese già hanno dato degli esempi positivi, già hanno costituito in questo territorio una rete di imprese, per cui già è operativa una rete di imprese che ieri ha dato risultati di quello che sta facendo e questo forse un piccolo merito è anche dall'esempio che le istituzioni pubbliche stanno facendo rete, quindi se l'istituzione pubblica farete può anche mettere sul piatto per gli imprenditori. Come lo facciamo noi? Fatelo voi, forse se ne pone più diretti, più pratici, più immediati e questo secondo me è un esempio sicuramente molto virtuoso che il nostro paese, ovviamente con il suo contributo, possa seguire soprattutto nella costa miniera che è la cultura e il turismo. Sì, dobbiamo scappare, ci dicono che a dieci minuti io ringrazio la regione però non possiamo che assentere, se potrò si raggiungerà lì, un ringraziamento però credo che per noi Leonardo, Chiara, Giuseppe sia da dare al Presidente della Fondazione Carivit, Mario Brutti, vi chiederei un applauso per lui e lo farò anche al convegno, perché dovete sapere, devi sapere Torina, che quando siamo partiti come tutti i comuni noi non avevamo il bilancio, noi eravamo in gestione provvisoria, non avevamo la possibilità di programmare sostanzialmente nulla come fondi propri, se non avessimo trovato la disponibilità e la sensibilità del Presidente Brutti, non saremmo partiti con la prima balza di progetto che aspira il Setruria, noi ci siamo autofinanziati proporzionalmente agli abitanti che ogni comune che ha deciso di farne parte aveva, siamo partiti, abbiamo realizzato grazie al Cineca e qui voglio ringraziare doppiamente la sovrintendenza del Cineca stesso, l'ingegnario Vitazzoli per aver realizzato il primo video promozionale che poi è quello che in sei mesi di Expo ci ha consentito di farci conoscere sicuramente da tanta più gente che non saremmo mai riusciti a raggiungere. Lui ci ha dato delle risorse importanti che ci hanno permesso di andare avanti e di produrre questi supporti, devo dire che si è anche stancato di essere l'unico supporter, quindi è ancora di più un invito a tutte le fondazioni che ricamano sui territori delle tre regioni in maniera tale che si possa fare ancora di più forza con noi. Io direi di fare intanto un brindisi e poi di spostarci. Grazie. Vi passo la valora per un breve saluto e qui ci dobbiamo spostare. Scusate, un pochino di silenzio. Saremo brevi però è importante ascoltare la voce della regione che ci sarà fondamentale. Sì, allora porto il saluto del presidente Zicaretti che ha inviato un video messaggio che adesso potete in conferenza del vicepresidente Smiriglio. È un'iniziativa importante, qualcuno ha parlato di ingegneria istituzionale, è vero, è il potenziamento di una prete con degli strumenti importanti. La regione, diciamo, ha già comunque recepito e deliberato. Insomma, siamo in affiancamento e speriamo di raccogliere certissimo i frutti. Ha un grande successo. Grazie, signore. Grazie mille. E adesso facciamo questo brindisi. Speriamoci porti bene e continui a portarci bene. I sindaci che sono un po' gli attori di questa vicenda. dottoressa Russo. Andiamo. Allora, Rodolfo. Dottoressa Russo, scusami. Scusami. Se vuoi permettersi, eh. Individiamo le responsabilità. Non il merito. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, questo qua è il cece nero, quindi è una tipologia di ceci che adesso anche nel nostro territorio l'hanno messa parecchio. Stai intorno al lago di Pozzena, è una zona molto ricca per gli alumi e vende molto bene. Chi le commercializza quando sono? È varie aziende, tantissime aziende, adesso sul territorio sono tante aziende che a livello generale... Questa è la cicerchia, ce n'è più di la cicerchia, però ancora qualcosa abbiamo. ... Domani, domani andiamo. Quindi noi li mettiamo qui. La domanda con pomodoro in arrosto e timo, i nostri dolci, il salame pavente. La domanda con pomodoro in arrosto e timo, i nostri dolci, 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 i nostri dolci. La domanda con pomodoro in arrosto e timo, i nostri dolci. La domanda con pomodoro in arrosto e timo, i nostri dolci, i nostri dolci. Grazie. Grazie. Grazie.